ben ritrovati di nuovo su review vado a recensirvi velocemente queste cartucce che contengono il liquido di pulizia che andranno ad inserirsi nella stazione di pulizia e di ricarica dei rasoi brown nello specifico comprate queste cartucce per il mio rasoio serie 9 potete vedere la recensione che ho fatto del rasoio che sono andato a comprare su amazon e devo dire che queste cartucce lo comprate non dalla da brown dall'azienda brown su amazon ma l'ho comprata da un altro venditore vi lascio quindi il link in descrizione perché perché le ho pagate la bellezza di 29 euro e sono 5 più 1 cioè 6 cartucce di pulizia rispetto invece ai 60 euro che costavano appunto comprandole dall'amazon del di brown quindi mi sembra proprio lo stesso identico pacco soltanto che qua io lo pagate la metà 30 euro 29 euro al posto di 60 e devo dire che sotto la pagina di questo venditore che vendeva queste cartucce c'erano molti commenti frammentati ovvero c'era chi diceva ma le cartucce non arrivano come dicono sono tre sono due invece io ho provato e devo dire che corrisponde a quello che c'è scritto sono cinque cartucce più le cartucce sono adatti a qualsiasi tipo di stazione di ricarica quindi qualsiasi stazione di ricarica per il rasoio brown abbiate funziona come vedete la fragranza di limone 5 più 1 semplicemente vendita il totale delle cartucce vanno inseriti qua dentro una cartuccia usando diciamo il sistema di pulizia ogni giorno quindi andando a effettuare una pulizia con una gocciolina quindi il livello di pulizia che spreca il minore liquido possibile mi è durato diciamo una cartuccia all'incirca un mese vado ad aprire insieme a voi la scatola l'ho già aperta precedentemente e vi mostro essenzialmente quelle che sono le sei cartucce tutte contenenti il liquido poi ovviamente si andrà a rimuovere la linguetta e appunto con sei cartucce devo dire che dovrebbe appunto durarmi a questo punto sei mesi una cartuccia più o meno per un mese per sei mesi sarò a posto vi faccio vedere la stazione di ricarica che ciò così potete appunto capire eccola qua la stazione di ricarica che opera il mio serie 9 che essenzialmente andrò a sostituire la cartuccia nuova con la cartuccia vecchia come far capire se ovviamente si deve cambiare cartuccia beh appare il simbolo lampeggiante anzi non è lampeggiante ma comunque appare il simbolo in rosso che indica la sostituzione della cartuccia vanno bene quindi come dicevo per ogni tipo di stazione di ricarica secondo me se si può risparmiare 30 euro comprando un prodotto che comunque è di marca sempre brown ma viene venduto da un rivenditore al prezzo inferiore perché no io vi consiglio questa questa promozione questa offerta e vi lascio il link in descrizione del venditore se avete qualche domanda non esitate a pormela